Sono tantissimi comuni d'Abruzzo caratterizzati dalla presenza di mura urbiche lasciate all'abbandono, all'incuria, alla mancanza di risorse indispensabili per valorizzare quel patrimonio, per recuperarlo. La sovrintendenza in Abruzzo ha fatto già un grande lavoro, non basta, non è sufficiente, serve una legge. Noi oggi abbiamo presentato, io, Americo Di Benedetto, Marianna Scoccia, il sindaco della città bellissima di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnoro, una legge stanziando un milione di euro simbolico, significativo per cominciare. Offriamo lo strumento ovviamente per costruire una narrazione, intanto per recuperare queste mura urbiche, ma soprattutto per costruirci lì dei percorsi culturali tese alla valorizzazione di quel patrimonio, ma soprattutto ad un'attrattività turistica. Pensiamo di aver fatto un grande lavoro che in oggi inizia un percorso interessante nelle commissioni di competenza, una legge che può essere arricchita, migliorata, valorizzata, serve una condivisione delle volontà, è uno strumento indispensabile per gli amministratori e per i sindaci perché la Regione Abruzzo può soltanto concedere soldi tramite le leggi, solo se finanzia le leggi. Oggi abbiamo presentato una legge, non ci sono più scuse. Gli amministratori aspettano questa legge perché poi attraverso bandi la Giunta può elargire queste risorse seguendo criteri di priorità, uno su tutti è la possibilità di accedere alle mura anche a persone con mobilità ridotta, quindi all'idea di disabilità, alle amministrazioni che hanno già dei progetti pronti dal momento dell'emissione del bando. Penso che stiamo sulla strada giusta per fare un buon lavoro e per offrire agli amministratori una vera e propria grande opportunità.